marco di rienzo dieci partite in questa stagione ben sedi da titolare domenica hai salvato la porta della vastese da un pareggio che forse sarebbe stato amaro con belli interventi sei contento del tuo momento dal punto di vista personale sì 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 sono soddisfatto il lavoro premia sempre questo è il mio motto lavorare duro e i risultati vengono partita fuori quota non è facile trovare spazio ma pian piano con il sacrificio e con il lavoro come detto tu ti stai togliendo belle soddisfazioni perché non ancora arrivano 30 giornate hai giocato già un terzo di campionato se te l'avessero detto inizio stagione pensavi di giocare tutti questi minuti no infatti è una bella soddisfazione però il campionato è ancora lungo quindi devo dimostrare di essere all'altezza perché comunque è un bel campionato e siamo una bella squadra e parlato di bella squadra tu hai ancora tanto da dimostrare c'è una classifica che inizia a migliorare nell'ultimo periodo tutti i tuoi compagni dicono che il vostro obiettivo sono i playoff cosa farete per continuare su questa strada dobbiamo continuare così come le ultime due domeniche due vittorie importanti che ci hanno fatto salire sia di mola di morale che di classifica e dobbiamo continuare solo su questa strada hai giocato da titolare contro il campo basso domenica la vastese va in molise tu sei di mirabello in pieno molise potresti di nuovo giocare titolare cosa potresti sentire giocando dentro casa tua sono solo stimoli in più per me che voglio fare sempre meglio voglio far bene voglio dimostrare quello che sono domenica sotto la curva davalos hai salvato la porta in due occasioni ti ha dato qualcuno la spinta in più per fare meglio sì è stato bello fare quei due interventi sotto la curva mi hanno dato lo stimolo ancora in più per la partita per continuare a vincere grazie a tutti